Sono Ilaria, faccio l'assistente alla poltrona, amo il mio lavoro e lo sbogo con tanta passione. Sono felice dal rapporto che riesco a instaurare con i pazienti. Faccio parte di una grande squadra che dedica tanto tempo alla formazione per crescere. Linica del sorriso a Torreia, vi aspettiamo! Questo è lo sportello della tua banca. Il tuo negozio preferito. Il tuo assistente personale. E questa è la tua azienda online. Il sito web della tua azienda non è solo un sito web, ma uno strumento di business. Il touchpoint è più importante con i tuoi clienti. Omnia Web, agenzia di web marketing, distilla il miglior web marketing per la tua azienda. Con le tecnologie più avanzate. Siti che si adattano a tutti i device. Le piattaforme più efficaci. Le soluzioni di business più innovative. Attraverso un metodo chiaro, preciso e condiviso con il cliente. Una volta pubblicato il tuo sito, non è finita qui. Omnia Web continua ad assisterti per ottenere il massimo risultato possibile dal tuo business online. Contattateci. Video, produzioni, telecittà. Benvenuti a una nuova puntata della ricetta della felicità. Io sono Marcolina e oggi ci troviamo nella cucina della gourmetteria. Accanto a me ho Giacomo Dianin, executive chef. Ciao. E Malvin Oxam. E cuoco ovviamente della gourmetteria. Siamo qui oggi per presentarvi come al solito tante ricette buonissime, meravigliose e anche per parlare di tanti argomenti importanti. Le ricette che abbiamo scelto oggi per voi sono davvero spettacolari e ce le facciamo raccontare dal nostro executive chef Giacomo. Allora Giacomo, cos'è che abbiamo pensato per i nostri telespettatori? Allora abbiamo pensato a tre fantastiche ricette. Oggi faremo uno sformato al piave vecchio con dei porcini padellati e uno speck croccante come antipasto. Poi passeremo a uno storione del parco del Sile panato con del pane panco croccante, una crema di patate viola, delle gocce di barbabietola e dei pomodorini confitte. Come dessert arriveremo al nostro magico tiramisù che è tiramisù veneto rivisitato in maniera un po' simpatica come lo facciamo qua in gourmetteria. E' chiamato anche tiramisù sbagliato perché gli ingredienti sono giusti ma... Allora di tiramisù giusti, sbagliati e inventati qui in gourmetteria ce ne sono veramente tantissimi per tutti i gusti. Io per anni ho assaggiato il mascafè, poi so che appunto fate anche tiramisù quello giusto, però stasera vi sveleremo la ricetta del tiramisù sbagliato. Quando ho chiesto a Giacomo qual è la sua ricetta della felicità, Giacomo mi ha indicato subito il tiramisù e devo dire che non poteva immaginare che si tratta anche del mio dolce preferito. Quindi oggi Giacomo mi rendi veramente felice con questa ricetta che andremo a condividere. Vi ho detto appunto che come ricetta della mia felicità tra l'altro sceglieremo lo sformato di Piavevecchio con cuore di mascarpone e porcini di aziago. E poi come ricetta del benessere abbiamo una ricetta un po' particolare fatta con ingredienti molto ricercati. Perché si tratta appunto dello storione, del parco del Sile. Come siete arrivati Giacomo a individuare questo ingrediente un po' particolare? Allora beh innanzitutto lo storione ricordiamoci che è uno dei pesci più storici e più vecchi che abbiamo a circa 250 milioni di anni. Quindi voglio dire è uno dei pesci preistorici che è ancora presenti qui. Fa parte della tradizione veneta. Si usava spesso in Veneto il pesce d'acqua dolce e tra i pesci d'acqua dolce si usava lo storione. Noi siamo andati a ricercarlo a Treviso in questa trotticoltura Santa Cristina dove abbiamo iniziato piano piano a assaggiare la sua carne e quindi riuscire a capire anche le caratteristiche, la morbidezza, il gusto, come poi poterlo mettere in pratica e come prepararlo e quindi cercando di giocare anche con un po' di fantasia. Io sono molto curiosa di vedere Malvin che si sta già mettendo all'opera e cercheremo appunto di svelarvi come al solito e condividere con voi tutti i segreti che possono far fare bella figura al vostro piatto e quindi alle vostre cene o pranzi. Andiamo a vedere Malvin di cosa ti stai occupando. Allora Malvin praticamente sta preparando uno sformato al piave. Adesso abbiamo appunto Giacomo che ci illustrerà bene tutti i passaggi. Ecco questo sformato al piave è fatto con del piave vecchio stagionato che ha all'incirca più di 180 giorni di stagionatura quasi attorno all'anno, tra i 180 e l'anno, quindi un formaggio in pasta dura, abbastanza friabile. Lui mescolerà della farina 00 con del latte in polvere della maizena, a parte ha montato dell'uovo con del sale e a parte ancora ha fatto un cremoso al mascarpone con del tuorlo che andrà a riempire il composto che ha fatto. Praticamente il composto montato assieme tra farine e bianco d'uovo è rappresenta la base esterna e soffice di questo tortino. All'interno di questo tortino verrà messo questo cuore al mascarpone. Durante la cottura in forno a 180 gradi lui si caramelizzerà esternamente, farà questa parte leggermente croccante e all'interno resterà morbido, quindi quando andremo a romperlo si scoppierà. Quindi ci sarà un insieme di emozioni e di... Io ammetto che Giacomo appunto me l'ha fatto assaggiare e quando ho provato appunto la delizia dello sformato che si apre gli ho detto Giacomo questa è assolutamente una ricetta della felicità da condividere con i nostri telespettatori. Mi piace sapere Giacomo, com'è che arrivate a scoprire sempre nuove ricette da proporre ai vostri clienti? Perché la puntata di oggi, visto che ci troviamo alla gourmetteria, si vuole incentrare su un tema particolarmente importante per la felicità che è quello della creatività. La gourmetteria per quello che è il concept di questo ristorante è veramente il trionfo della creatività. Poi vi mostreremo appunto quando andremo a cena che oltre ad essere serviti degli ottimi cibi in tavola i clienti possono anche comprare un sacco di prodotti che sono stati selezionati in tutto il territorio dal titolare, da Daniele. E appunto ti volevo chiedere dove nascono le vostre idee? Le nostre idee nascono da una base di tradizionalità e da una base di fantasia. Cerchiamo tra di noi con i ragazzi, si in cucina, con Alessandro, con Daniele, il nostro titolare di prendere delle idee che ci abbiano trasmesso delle emozioni. Innanzitutto andiamo a ricordare, ad avere dei ricordi sulle emozioni che abbiamo trascorso l'infanzia o quando eravamo giovani. Associamo i piatti che ci danno questa emozione e cerchiamo di ricreare, dare una fantasia, una nostra idea provando, documentandoci ma anche ricercando insomma un po' quale sono le nostre idee culinarie. Adesso cuciniamo, puoi pure metterli in forno. Ho letto una tua frase Giacomo che mi ha colpito perché sono perfettamente d'accordo ed è quella che il cibo ci rende felice quando ci riporta ai sapori dell'infanzia in qualche modo. Questo pensiero sono curioso di sapere in che modo l'hai maturato. Io l'ho maturato, io ho due bimbe, Elena e Agnese e ovviamente mi fanno impazzire perché mi diverto con loro e con loro riesco a capire anche come passavo io l'infanzia con mia madre. Mi sono sempre divertito a cucinare con mia madre, mia nonna. Quindi i ricordi più belli che ho del mio passato, le emozioni più grandi, sono comunque legate a la cucina, lo stare assieme, a quegli episodi che da piccoli si fanno per le lasagne. Sì, questa cosa è particolarmente vera, probabilmente per te perché hai avuto la vocazione fin da piccolo. Probabilmente sì. Ma è vera dal mio punto di vista anche un po' per tutti noi, nel senso che ci sono sapori, profumi, colori indelebili appunto nella nostra memoria e poi sono questi sapori che ci regalano attimi inebrianti di felicità quando andiamo a degustare dei piatti particolari come quelli che vogliamo condividere oggi con voi. Prima di passare alla nostra seconda ricetta della felicità, che appunto sarà lo storione, raccontaci invece qual è un cibo particolare dell'infanzia, un piatto dell'infanzia che ti è rimasto particolarmente impresso nella memoria proprio perché ti ha regalato tanta felicità. Beh, se posso dire la mia, io non sono italiano, vengo dall'Albania, è uno dei piatti tipici, diciamo che la pasta e fagioli, però a modo nostro. È un po' Veneto. È un po' Veneto. Diciamo sì. Perché Marvin, tu sai? Ormai sono 12 anni che sono a Padova. Tu sai che la pasta e fagioli è anche un piatto tipico di Padova? È un piatto tipo di Padova. Che si mangia nelle campagne. Appunto per questo, quando ho cominciato a lavorare nelle cucine, ho sempre cercato di modificare, di creare meglio la pasta e fagioli. Quindi abbiamo scoperto questo legame tra l'Albania e il Veneto, la pasta e fagioli. Difatti un piatto che abbiamo in menù che ha inventato Malvi è una rivisitazione della nostra pasta e fagioli. Come l'hai fatto? È una pasta e fagioli un po' a tradizione, semplicemente non ha più la pasta cotta, però è una pasta particolare che si chiama pasta soffiata. È un procedimento abbastanza lungo, però bello alla fine del... Insomma ci stai curiosendo Malvi, ma adesso noi siamo curiosissimi di vedere come... Allora io devo finire il tortino. Ah, ok. Così vado avanti. E nel frattempo però Giacomo ci parlerà della sua passione per i tiramisù. Intanto tu vai pure Malvi. Finisci il tortino. Allora, perché qui alla gourmetteria ci sono addirittura tre tiramisù? Allora, qui in gourmetteria ovviamente abbiamo diversi tiramisù, perché nascono un po' dalle passioni di ognuno di noi, o dalle esperienze culinarie di chi è arrivato anche prima di noi. Insomma, nel senso, gourmetteria è qui da quattro anni, è aperta da quattro anni abbondanti, quasi cinque. Io sono qui quasi da tre. I titolari vengono da Treviso, quindi magari hanno portato... I titolari vengono da Treviso, sappiamo che a parte tutte le guerre che ci sono state tra Friuli, Veneto, eccetera... Per l'attribuzione del tiramisù. Esatto, poi siamo noi veneti, diciamo che siamo gli artefici del tiramisù e abbiamo voluto... E devo dire che comunque, secondo me, il tiramisù è uno dei dolci più famosi a livello proprio nazionale. E' stato attribuito alle beccherie, che è un ristorante di Treviso. Di Treviso. Si cerca di riconoscere la... Di riconoscere o di ricordare la provenienza e un'adattazione che è attorno alla metà degli anni 70. E niente, io ho voluto rivisitare il mio... La mia idea di tiramisù, io ne ho mangiato tanto da piccolo, ne ho mangiato... Ho visto questa passione... Giacomo, sai che si dice che il tiramisù fatto in casa spesso è meglio del tiramisù mangiato al ristorante, però questo vale per tanti posti, ma non per la gourmetteria. In che modo voi riuscite a fare un tiramisù per tante persone, però fatto con una passione artigianale? Noi, innanzitutto, utilizziamo sempre prodotti a chilometro zero e quindi abbiamo un rapporto diretto con il produttore, con chi ci dà l'ingrediente che poi noi utilizziamo e lo conosciamo, cerchiamo di riconoscerlo, cerchiamo di capire di cosa stiamo lavorando. Questo è uno dei nostri vantaggi. E poi cerchiamo di mettere la tradizione all'interno del piatto che andremo a fare. E quindi cercheremo di creare poi la nostra idea di tiramisù, insomma. Adesso stiamo guardando Malvi. Malvi, di cosa si sta occupando? Stiamo preparando il nostro storione, lui adesso sta tostando questo pane panco, che sarà la parte croccante che daremo allo storione. Il pane panco ha un'origine orientale. E quindi i nostri telespettatori dove lo possono trovare? Lo possono comprare in un negozio etnico o comunque anche in una parte dei negozi che dedicano ingredienti etnici. O lo possono fare in casa. Lo possono fare in casa, come si può dire, cercando di avvicinare il prodotto simile, in una maniera simile a quello che abbiamo noi. La fanno in casa sbriciolando del pane in cassetta, della mollica del pane in cassetta. Dobbiamo stare molto attenti quando lo prepariamo perché è delicato e poi noi con le piastre in induzione, altrimenti se no lo tostiamo subito. È come se fosse un pan grattato fatto di mollica. La caratteristica principale è che questo pane, sia a contatto con l'olio della friggitrice sia in forno, non assorbe il grasso o comunque l'olio che andremo a mettere per fare i movimenti in pani. Perché essendo pieno di bolle d'aria cerca di gonfiarsi, quindi dà una parte più croccante esterna ma allo stesso tempo non incorpora l'olio e non incorpora il grasso e quindi non è pesante e non dà quella sensazione di fritto e di croccantezza fastidiosa. Adesso Malvin ha passato lo storione nel pane croccante, poi gli darà 5 minuti in forno per renderlo croccante esternamente, dagli la cottura dello storione, scalderemo a parte adesso un po' di crema di patate viola, la crema di patate viola la facciamo con un po' di acqua e latte. E patate viola? Patate viola. Ma le patate viola dove le troviamo? Le patate viola hanno un'origine francese o un'origine anche delle zone, verso la laguna veneziana, che sono patate a pasta blu, chiamate così perché hanno una colorazione che va dal bianco al blu al viola, quindi sono un colore misto. Noi abbiamo voluto ricercare... Ma le troviamo al supermercato? Le trovate al supermercato, le trovate... Oppure le possiamo chiedere, non so, frutti vendolo? Magari il vostro frutti vendolo è molto bravo, quindi vi può dare la possibilità di trovarle, anche in un prezzo abbastanza... Che particolarità organolettiche hanno le patate viola? La patata a pasta viola ha il classico gusto della patata, la caratteristica principale è che ha un colore abbastanza vivo e quindi dà la possibilità di giocare anche nell'impiattamento per noi, quindi ci dà la possibilità di divertirci quando prepariamo qualche piatto. e dal punto di vista organolettico è ricca comunque di carboidrati, di principi nutritivi come la patata classica. Possiamo usarla anche per fare gli gnocchi. Diciamo che è più simpatica, diciamo, da vedere. Rende più allegro il nostro piatto. Esatto. Dopo che ha scaldato la crema di patate, Malvin adesso... Adesso è pronto il tortino? Ci impiatterà, esatto, ci impiatterà il tortino. Caspita Malvin, hai preparato un tortino in tempi da record? Ma quanto ci metteremo noi a casa quando andremo a realizzarlo? Beh, una preparazione, non dico facile, però una preparazione media. Ci vuole circa mezz'ora per circa 6-7 persone. E vi assicuro che è mezz'ora, ma ne vale veramente la pena. E stavamo parlando allora del nostro storione. Esatto. Adesso, mentre vedremo che Malvin adagirà una base di porcini, poi adagirà il nostro sformatino. Oggi siamo veramente in una condizione particolarmente sfidante, perché la cucina della gourmetteria richiede appunto di essere un po', fare un po' incontorsionisti per riuscire a starci tutti dentro. Esatto, vogliamo riuscire a passare male. Per la camera, ma anche per riuscire appunto a portare avanti la realizzazione delle nostre ricette che vengono fatte in diretta. Noi sentiamo già il profumino che si sfuggiona. Nel frattempo adesso impiatteremo il tortino. La cosa molto bella di questa nostra trasmissione è che andiamo effettivamente ad assaggiare tutto quello che viene preparato qua. Poi Giacomo approfondiremo durante la cena anche il tema della creatività, di cui abbiamo già cominciato a dare un accenno, con i nostri ospiti, che andremo a svelare presto chi sono. Allora, eccolo qua. Questo è il nostro tortino. Se volete vi faccio vedere l'effetto spettacolare che dà la sua parte interna, nel senso che la parte croccante è data dallo speck. Noi spaccandolo faremo uscire quello che è il mascarpone che si è sciolto e che ha creato questo cuore delizioso che poi andrà assieme alla parte croccante esterna e allo speck a dare insomma senso a tutto il piatto, tutto quello che abbiamo creato. E lo speck come si rende croccante? Lo speck lo essicchiamo, tagliamo delle fette fine e lo essicchiamo a bassa temperatura di notte, almeno 5-6 ore, a 65 gradi, non di più perché altrimenti rischiamo di colorarlo. Nella macchina apposita? Lo essicchiamo in forno. Ah, in forno. Quindi noi volendo potremmo farlo anche a casa. È chiaro che il costo diventa un po' più elevato, oppure possiamo comprare una semplicissima essiccatrice, le troviamo anche nei negozi... Quelle che si usano anche per la frutta? Quelle che si usano per la frutta, esatto, le troviamo anche nei negozi. e tagliamo le fette leggere e le adagiamo e le essicchiamo insomma per 6-7 ore. Questo è il risultato finale. Fantastico. Che poi è il passagerino. Siamo pronti anche con l'impiettamento della storione. Questo piatto è assolutamente conquistato per quello che ho voluto sceglierlo come mia ricetta personale della felicità all'interno di Gourmetteria. Ingredienti. Un uovo, 30 g di burro ammorbidito, 60 g di latte, 60 g di yogurt, 30 g di piave grattugiato, 2 g di sale, 6 g di zucchero, 6 g di baking, che è una polvere lievitante, 40 g di farina, 12 g di albume, 10 g di latte in polvere e per il ripieno, 100 g di mascarpone, 26 g di piave grattugiato, un tuorlo d'uovo. Vediamo un attimo infatti questa ricetta molto particolare. Diciamo che se quello lo sformato è una ricetta media come difficoltà allo storione, come potremmo classificarla? Un po' più alta. Un po' più alta perché dobbiamo comunque o troviamo il nostro pescivendolo di fiducia che ci sbaffa e ci dà comunque il trancio già pulito, altrimenti diventa un po' più complesso perché dovremmo sfilettare lo storione e creare poi noi quello che è il trancio e la forma che vogliamo dare al nostro pezzo di carne. Ecco, lo storione è una carne molto morbida, è ricca di proteine, ha dei grassi insaturi, quindi comunque non è pesante. È famoso lo storione per la caratteristica principale che è la produzione del caviale. Noi abbiamo voluto però ritornare appunto alle nostre tradizioni, ritornare comunque ai piatti come si faceva una volta ai poveri. E che è un po' la caratteristica generale di gourmetteria, che quest'anno ha vinto un premio per lo street food sulla guida del gambero rosso. Esatto, praticamente il premio l'abbiamo preso perché abbiamo avuto la possibilità di inventare o riprendere dei piatti street food che facciamo noi qui in locale, con i hamburger, i fiori di zucca ripieni, le mozzarella in carrozza, la versione nostra delle pizze. Abbiamo preso questo premio perché abbiamo cercato di portare in ristorante quello che puoi mangiare nei baldacchini o nei truck, nei bus in giro per l'Italia. E poi avete anche la pizza veneta a base di farina di mais. Abbiamo questa, esatto, quella pizza veneta che è una percentuale di farina di mais. Però adesso cerchiamo di capire qualcosa in più sulla preparazione dello storione. Ecco, praticamente impiattato in questo modo abbiamo dato creatività, fantasia, sembra quasi una tavolozza di colori, che è l'obiettivo principale che abbiamo noi. Un trionfo di creatività. Grazie anche alla mano di Malvi, in questo caso abbiamo messo delle cialde croccanti di colore differente, difatti qui nera e gialla, cialde di polenta che abbiamo essiccato di notte per dare comunque anche qui una tonalità e uno stacco differente, le nostre gocce di barbabitola e la caratteristica principale che parlavamo prima della patata, che ha dato questo colore così acceso e così vivo e che dà una caratteristica importante al piatto. E quindi qua abbiamo croccante, morbido. La parte croccante del pane, poi abbiamo la morbidezza e la gustosità della carne dello storione, la cremosità della patata viola e i colori dati dalla fantasia nostra. E poi il confit, anche il pomodorino confit. Che è un altro ingrediente che voi usate particolarmente. Come si prepara il pomodorino confit? Il pomodorino confit o come si vuol chiamare, noi lo facciamo sempre con una lunga cottura notturna, impostiamo un forno a 75 gradi a secco, inseriamo dentro i pomodorini, li condiamo con bucce di limone, arancio, olio, extravergine d'oliva, sale e zucchero nella stessa quantità e mescoliamo tutto assieme senza aceto. Mescoliamo tutto assieme, poi mettiamo degli ingredienti a nostro piacere, che possa essere tipo del rosmarino, del timo, della salvia eccetera eccetera e lo cuciniamo per queste 7-8 ore. Il risultato finale è questo pomodorino appassito che assomiglia un po' al pomodoro secco ma che ha un gusto eccezionale. E la cosa particolare di questo piatto è che oltre a renderci e stimolarci sensi con tutti questi colori meravigliosi, il nostro palato appunto con la sua croccantezza, morbidezza e anche un piatto che fa veramente tanto bene alla nostra salute, al nostro benessere, proprio per le caratteristiche, le proprietà degli elementi che lo compongono. Le proteine del pesce sono uno dei cibi che stimolano di più gli ormoni della salute e del benessere. Ingredienti. 180 grammi di storione affumicato fresco, 30 grammi di pane panco, 50 grammi di patate viola, 50 grammi di latte, 50 grammi di acqua, 5 e 6 pomodorini, 5 grammi di succo di rapa rossa, maggiorana in foglie. Finalmente vediamo Giacomo all'opera per realizzare la nostra meravigliosa terza ricetta della flicità che è il nostro tiramisù sbagliato. Perché tiramisù sbagliato Giacomo? Allora perché gli ingredienti per creare tiramisù sono quelli giusti, interpretati nella nostra maniera, però sbagliato perché esteticamente ha una forma diversa dal classico tiramisù e non ha delle basi. Abbiamo cercato di improvvisare o di modificare le nostre basi. Io adesso sto facendo un tira misù creativo. È un tiramisù creativo. Sbagliato perché io l'ho assaggiato ed è veramente delizioso. Direi che è un tiramisù creativo. Un tiramisù che è fatto più o meno con gli stessi ingredienti che mangiati insieme danno l'idea del tiramisù. Esatto. In questo caso sto facendo uno zabaione e quindi ho preso il rosso d'uovo, ho preso il marsala e lo zucchero, li ho mescolati assieme e adesso li cucino a una temperatura che arriva più o meno attorno ai 70 gradi. Quindi coagulo la parte... Il procedimento è quello che chiameremo... ...delle proteine. È un bagnomaria. È un bagnomaria. Sì, tipico per la realizzazione dello zabaione. Esatto, è un bagnomaria. Quindi lo creiamo, lo rendiamo cremoso. Appena vediamo che inizia a coagulare, quindi essere cremoso, vuol dire che è ora di toglierlo. Poi lo raffredderemo e lo utilizzeremo all'interno della nostra ricetta che andremo a montare. Insomma, ecco. Ci fai vedere tutti i passaggi una volta che è finito con lo zabaione? Io vi faccio vedere adesso il risultato finale. Allora, questo è lo zabaione. Questo, lo zabaione da caldo ha questo effetto, quindi lo vediamo molto cremoso. Lo zabaione invece è appena raffreddato. E questo è lo zabaione, già raffreddato? È un po' più denso e ha una cremosità differente. Quanto tempo si lascia riposare, Giacomo? Lo lasceremo riposare almeno una mezz'oretta in frigo, in modo che riesca ad adensarsi e a prendere e ad avere la forma giusta. Il nostro zabaione è pronto. Andiamo a vedere adesso come Giacomo assembla tutti gli ingredienti per il nostro. tiramisù sbagliato. Allora, io parto con una base, con un biscotto croccante fatto di mandorle e nocciole. Questo va a sostituire il classico savoiardo, un biscotto che cuciniamo noi. Mandorle, nocciole, burro e zucchero. Poi mettiamo un po' di caffè sulla base. Ovviamente noi utilizziamo caffè e caffeinato in modo che anche i bambini possano mangiare questo delizioso tiramisù. Ecco perché quando l'ho mangiato non mi ha tenuto sveglia, Giacomo, perché era di caffè nato. Noi cerchiamo di invogliare qualsiasi clientela e qualsiasi tipo di età a mangiare il nostro tiramisù. Sì, perché anche i bambini vanno matti per il tiramisù, ovviamente. Come ripeto io ne mangiavo quinta latte da bimbo e probabilmente avevo anche il caffè. Quindi biscotto, caffè, zabaione. Biscotto, caffè, adesso abbiamo messo lo zabaione. Dopo lo zabaione metteremo una nostra spuma al cioccolato. La spuma al cioccolato la mettiamo nel sifone. Viene fatta con panna, zucchero e polvere di cacao. La mettiamo in sifone perché cerchiamo comunque di dare una spumosità differente. Si può fare lo stesso a casa montando con ingredienti normali. Ok, questo è uno strumento professionale che comunque si sta cominciando a trovare anche nei negozi. e nei casalinghi. Quindi questa è spuma al cioccolato. Ho sbagliato, ho fatto il contrario. Questa è spuma al cioccolato, voilà. Dalla consistenza... Che ha una consistenza molto soffice, quindi leggera e delicata. Dopo la spuma al cioccolato metteremo la spuma al caffè. La spuma al caffè è fatta allo stesso modo, solamente che utilizziamo panna e caffè, è anche qui decaffeinato, con un po' di zucchero. Dà una consistenza differente, il colore è leggermente più chiaro. E questa consistenza di leggerezza e di... E rende più soffice, diciamo, questo piatto che all'inizio può sembrare un po' pesante perché c'è lo zabaione e l'uovo. E queste cosa sono? Questo invece è un crumble croccante che è una base di un biscotto sbriciolato. Noi l'abbiamo chiamata terra, si chiama terra anche, è fatto con zucchero, cioccolato, burro e farina. Mescoliamo tutti gli ingredienti assieme con la frusta e il cacao e con la frusta creiamo queste piccole palline che sembrano un tipo di... Che servono a guarnire, quindi il nostro era messo sbagliato. Questa va a chiudere e a coprire il nostro piattino e diamo questa idea di, come si può dire, di stratificazione della terra. È nato anche in questo modo, così. L'aspetto è decisamente scenografico. Manca il tocco finale di Giacomo. Lo decoriamo alla fine con una fogliolina... Di timo? Di timo o di maggiorana. La fogliolina dà l'idea che possa sembrare anche una piantina e quindi richiama gli strati della terra con la terra finale. E con questa fantastica ricetta del tiramisù sbagliato che ci ha illustrato Giacomo direi che siamo pronti a passare in tavola dove degusteremo le nostre ricette con gli ospiti che ci aspettano. Ingredienti per una porzione di tiramisù sbagliato. Per il crumble di nocciole e mandorle ci servono 16 g di farina di mandorle, 16 g di farina di nocciole, 50 g di burro, 40 g di farina 00, 50 g di zucchero. Ingredienti per la crema VOV. 300 g di zucchero, 300 g di tuorlo d'uovo, 30 g di maizena, 150 g di VOV, 50 g di marsala. Per la spuma di cioccolato ci servono 100 ml di panna, 10 g di cacao in polvere, 5 g di cioccolato fondente, 5 g di zucchero. Per la spuma al caffè occorrono 100 ml di panna, 20 g di caffè solubile. Infine per la terra al cacao, ci servono burro, zucchero a velo, cacao e farina. Benvenuti a casa vostra. Qui in Clinica del Sorriso vi sentirete parte di un'unica, grande famiglia. Vi accoglieremo con cortesia e professionalità. Noi abbiamo cuore e la vostra salute. Clinica del Sorriso a Torreglia vi aspettiamo! I nostri piatti sono pronti, gli ospiti stanno aspettando a tavola e adesso cerchiamo Daniele che si occupa dei vini. Daniele? Sì? Dove sei? Sono qui in cantina che sto cercando i vini per andare a tavola dopo. Come sai, le nostre tre meravigliose ricette della felicità sono pronte. Quali vini della felicità ci possiamo abbinare? L'ho pensato di abbinarci con il primo tortino che avete fatto in cucina. Lo sfumato di piave, sì. Esatto. Con un suave. Cosa le possiamo usare? Un suave è una selezione che noi facciamo che ho fatto di un piccolo produttore nel suave classico, zona vulcanica, bellissima mineralità ma creano i profumi e che si abbina perfettamente con il tortino. Daniele, tu sei oltre che titolare anche proprio il creatore e l'ideatore di gourmetteria. Esatto. e scegli personalmente tutti i prodotti che si trovano qui nel negozio oltre ad essere anche sommelier. Quindi, per la nostra seconda ricetta che è lo storione cosa ci proponi? Lo storione pensavo qualcosa di un po' più aromatico di passare e andare verso il suo collio e quindi uno schioppetto, una malvasia di Mario Schioppetto. Benissimo. E fine per il tiramisù? Questa esplosione di creme che ci sono il tiramisù che dopo lo vedremo o comunque l'avete già visto durante prima la preparazione ci abbina perfettamente un moscato dei colli eugani quindi ritorniamo qui in modo locale diciamo e quindi una bella bolla e interessante con una bella romanticità per cui la bellezza. Allora adesso io ti posso aiutare per portare i vini e raggiungiamo i nostri ospiti a tavola. Ed eccoci a tavola per degustare le nostre ricette dell'applicità e siamo pronti anche a presentare gli ospiti di questa sera. Daniele che ha invitato? Ho invitato un po' di amici colleghi quindi abbiamo Emanuele che è il nostro sommelier consulente amante del vino quindi condividiamo molto. Diciamo che è la parte della tavolata dedita appunto all'enologia perché tu sei il sommelier tu Emanuele sei anche il sommelier e poi abbiamo Alessandro che vende vini ma anche lui è sommelier e poi da questa parte Dall'altra parte abbiamo Gabriele che è un caro amico però anche colui che mi ha aiutato in questa avventura di gurmetteria nella creazione e ovviamente l'ideazione è un concetto che nasce un po' da lontano ma mi ha concretizzato perché è una persona molto flessibile che mi ha aiutato al 360 e quindi mi ha supportato e aiutato nell'ideare il concept di questo locale che è veramente particolare innovativo e accanto a me infine abbiamo Franz Pondriest un passato da ciclista professionista direi che non sono quello conosciuto di più ho fatto professionista mio fratello però sei conosciuto e invece un presente particolarissimo diciamo che mi piace il vino ovviamente come questi signori qui che sono davanti il vino è ovviamente buon cibo fuori dubbio e ovviamente dopo è stato un caso sono diventato anche amico di Daniele soprattutto anche ieri mi ha fatto una bellissima e Franz si occupa di cavalli poi ci spiegherà in che modo e come ma adesso direi che è arrivato il momento di brindare a noi e alla gurmetteria e soprattutto di cominciare a degustare appunto il primo piatto il primo piatto che ho voluto scegliere io perché è un piatto veramente fantastico sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi e si tratta appunto dello sformato di piave con porcini e cuore di mascarpone ovviamente come vedete è un spec croccante come è fatto a ideare un posto così diverso in cui oltre al cibo c'è un'offerta vastissima di tante altre cose e di tanto colore si diciamo che l'idea nasce da lontano forse nasce soprattutto come dicevo prima dalla mia grande passione di questo mondo enogastronomico che mi ha trasmesso un po' la mia famiglia mio padre ma sicuramente i viaggi e la scoperta andando in giro mi ha arricchito molto di più ma l'idea di unire e combinare appunto l'offerta di cibo e anche di prodotti avevi visto qualcosa del genere da altre pub in qualche altra città italiana beh in Italia non ancora ma all'estero è ancora già diffuso il fattore di mangiare negli store o ci sono degli angoli del corno in cui si possono comprare le cose e mangiare insieme e quello che volevo fare io questo era proprio un viaggio nella ricerca delle nostre Italia che noi ci plantiamo sappiamo il patrimonio che noi abbiamo ma a volte a volte non sappiamo valorizzarlo quindi era un po' ritornare alle origini e a valorizzare il territorio per questo che ho cercato di fare una rappresentazione dell'Italia come lo voglio chiamare divisa per regioni una piccola rappresentazione perché sappiamo che il nostro patrimonio è amplissimo anche se lo stiamo perdendo in modo importante e quindi ho modo anche per mantenere vive quelle che sono le tradizioni delle varie regioni d'Italia esatto e c'è qualcuno che ha cercato di fermarti in questa tua idea così coraggiosa Daniele innovativa beh no diciamo no però sono una persona abbastanza testarda ma soprattutto ho la passione e la volontà di farli scoprire perché appunto come ripeto abbiamo questo patrimonio ma sta scoprendo perché basta pensare tutti i prodotti che noi abbiamo ma oggi come oggi è anche difficile più da provarli un giro recuperarli e anche stessi piatti nella nostra tradizione bellissima che noi abbiamo ricordiamoci che ogni paese da una provincia all'altra abbiamo piatti sapori gusti vini differenti totalmente diversi ma che stanno un po' spalendo però c'è la volontà di riscoprirli infatti come gurmetteria siamo anche soci con Slow Food hanno fatto l'alleanza con i cuochi di Slow Food per riscoprire appunto i prodotti del territorio quello che facevano un po' i nostri nonni quando andavano le nostre nonne principalmente chiamiamoli così andavano nell'orto nell'aia che adesso fa un po' diciamolo bello dire chilometro zero stagionalità ma una volta era così ma la cosa importante è la conoscenza dei prodotti che uno si sta perdendo e se non si ha la conoscenza vuol dire la creatività mille meno e i padovani come hanno accolto questa tua proposta? beh il padovano era molto diffidente all'inizio perché ovviamente non avendo un'entità o una storia alle spalle non capivano mi hanno studiato diciamo per capire chi ero e chi sei all'inizio c'è stata un po' di diffidenza sì assolutamente quello assolutamente è stata un po' di diffidenza però poi hanno apprezzato e quando hanno capito che il mio progetto che porto avanti la qualità è il territorio l'hanno apprezzato a pieno quindi è una bella soddisfazione per me avere questo riconoscimento soprattutto delle persone perché un padovano viene in gourmetteria dal passaparola degli amici quindi è la cosa più bella la pubblicità più bella che uno può avere anche perché è un format che abbina la qualità un buon servizio ma in modo informale come si chiude come noi siamo qui che stiamo mangiando sì è molto allegro infatti io dico sempre che non si può entrare in gourmetteria senza uscene più felici un po' sentire a casa ecco devi sapere che io ho preso diverse cose per arredare la mia cucina con un tocco di colore ovviamente in Italia sta andando tantissimo il turismo è un gastronomico e la cosa particolare che tu offri ai tuoi clienti è il fatto di riuscire a fare il turismo stando qui dentro quindi passeggiando all'interno del locale io adesso vorrei appunto chiedere a Francia invece di raccontarci in che modo ti sei approcciato al mondo del cavallo faccio breve perché altrimenti potete stare qua qualche giorno diciamo che tra lo studio che è più o meno il percorso tutto le scuole medie le scuole medie superiori un po' gli approcci pseudo universitari e nel contempo correvo in bicicletta quindi non avevo tempo tanto per divertirmi perché quelli che gli altri i miei amici i miei compagni i miei paesani io andavo a letto alle nove in pomeriggio volte che studiare anche a volte poco studiamo gli sportivi hanno una forte disciplina sì ma è stato anche mio padre che mi ha aiutato molto nella disciplina direi perché è molto inquadrato tutto quanto poi ho sempre lavorato in campagna avevo una piccola l'azienda agricola il Val di Nonde e le mele e questa passione è sfegatata per le biciclette dopo poi la testa non funzionava devo dire la testa perché la testa giusta al momento giusto è una cosa essenziale ho smesso piuttosto presto nella bicicletta ma da piccolo ho sempre avuto la passione ai cavalli mi approcciavo agli asini tutti quelli che erano gli animali ma più che altro questi qua da da poter montare questa cosa forse è enfatizzata quello che potrebbe essere il western quello che aveva il salto queste cose qui e a quel punto prima hai fatto un salto dalla bici a cavallo diciamo che prima montavo così come tutti quanti montavo a cavallo facevo il mio giro poi mi sono approcciato al cavallo e mi sono detto ma cavolo io faccio professionista inizio a farmi la ginnastica al mattino lo yoga e tutto quanto mi guardo il mio fisico se siamo in due bisogna capire anche psicologicamente una giornata non è come l'altra quindi il cavallo dico cavallo il cavallo sarà pure come il cavaliere quindi è ancora più difficile mettere insieme due binomi quindi è iniziato lo studio del cavallo capire l'etologia punitiva la biomeccanica la tecnica equestre e poi è iniziato a mettermi in discussione tanti dicono no sto cavallo non va come non va il cavallo il cavallo può darsi che non va non ha la giornata ma siamo noi che roviniamo gli animali è l'uomo che rovina perché con le sue rigidità con le loro tensioni con la non conoscenza soprattutto ma Franza quando tu hai cominciato questa attività ti sei in qualche modo creato e inventato quello che dovevi fare il tuo approccio con il cavallo e hai avuto dei modelli diciamo che quando ho iniziato a frequentare più il mondo del cavallo mi sono detto ma questi qui non fanno non fanno gran parte ci sono dei gran fenomeni capiamoci ho detto ma cavolo qua io mi faccio veramente sono schematico e faccio lavoro probabilmente i cavalli non fanno quello che devono fare per sbaglio ho conosciuto un mio amico che fa il commercialista con il quale poi abbiamo sono cresciuto lui veniva dalla scuola di Viena e ho iniziato a dirmi ma potresti leggere determinati libri dei vecchi dei vecchi generali che parlano di primi di biomeccanica Jean-Lucat Philippe Carla poi generale Laoth comunque con dei nomi che per chi era conoscente e poi parlavamo molto di questa di questa etologia di questa cercare di comunicare con questo animale perché non ti puoi dare due botte uno anche bambino gli ha due botte ma se riesce a far capire il problema è che noi parliamo probabilmente parliamo anche a Veneto qua se vogliamo o italiano magari anche in inglese l'animale l'animale ha un suo linguaggio quindi non possiamo pretendere che l'animale capisca noi noi dobbiamo capire e poi abbiamo fondato un'accademia Gabriele anche tu fai un lavoro in cui è richiesta un'altissima dose di creatività sia come regista sia come sviluppatore appunto di siti grafica per aziende sia come sviluppatore di una tua linea di design di arredamento la cosa che mi interessa capire è ma un designer ha un metodo per farsi venire delle idee? allora credo che in generale ognuno abbia un proprio metodo per fare qualsiasi cosa nella vita quando quando faccio qualcosa non mi impunto sono molto paziente ho conosciuto Daniele quando sono venuti qua in questo locale mi ha detto dammi una mano era pieno di idee e dovevamo siamo entrati con una ruspa perché qua era un'altra cosa siamo entrati con una ruspa abbiamo spazzato via tutto abbiamo ricostruito un'idea quando mi trovo davanti a spazi vuoti io devo oziare nel senso che ho bisogno di tempo che sia un giorno che sia un'ora e poi piano piano miracolosamente qualcosa avviene però non so miracolosamente però in realtà Gabriele hai toccato un aspetto importantissimo per la creatività la creatività ha bisogno di spazio ed è quello che noi non facciamo quasi mai quindi il fatto di prendersi del tempo per sé c'è una scrittrice che mi piace tantissimo ha scritto un libro meraviglioso si chiama La via dell'artista in questo libro lei dice che ognuno di noi per esprimere meglio la propria creatività dovrebbe dedicare al proprio bambino creativo interiore almeno un paio d'ore la settimana in cui facciamo da soli qualcosa ma ci dedichiamo a qualcosa che veramente ci piace e questo crea spazio così come magari spegnere cellulare per una mezza giornata cosa che pochissime persone hanno coraggio di fare perché non si può la creatività non può sborcare quando c'è troppo che la blocca e questo troppo a volte può essere anche un eccesso di informazioni così come avviene nel nostro mondo nel nostro stile di vita oltre allo spazio chiedo appunto a Emanuele e Alessandro voi avete qualche altro modo per stimolare la vostra creatività per esprimere la vostra creatività creatività la creatività per me è una specie di assemblaggio rimanendo nelle metafore enologiche assemblaggio di cose assemblaggio di tutte le passioni che animano la propria vita di tutte le suggestioni di tutte le anche tutte le memorie giornali tutti i ricordi modo in cui io sottolineo la parola assemblaggio che ha utilizzato perché c'è un guru attuale della creatività che dice ruba come un attista questo è il titolo di uno dei suoi libri più famosi proprio perché la creatività in realtà non è inventare qualcosa da zero ma è taglio modifico incollo quindi raccogliere tanti spunti e mettere insieme in un modo nostro ma ci può essere un non d'accordo? certo che puoi essere d'accordo ok non sono d'accordo no siccome è un guru magari i guru non si toccano i guru i guru magari non si toccano io non sono d'accordo è un grande guru no però lui ci ha detto il suo metodo il suo metodo è l'assemblaggio sì no no ma sono d'accordo però Tim Burton anche un grande regista assimila solo film di serie B perché gli lasciano spazio alla creatività nel senso che non lavorare con stereotipi o non assemblare cose già viste ti lasciano più libero di creare qualcosa che non c'è altro punto di vista se ti può essere utile mi credo è inutile noi non gli mettiamo niente comunque è vero no 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 dico non segui stereotipi noi cogliamo sempre da qualcosa assolutamente sviluppare o inconscia o non inconscia poi il modo in cui lo mettiamo insieme può essere il nostro modo certo ma come dice la psicologia della Gestalt il tutto è più della somma delle parti se due parti si uniscono non è detto che siano parti uguali che arrivano come erano prima diventano una nuova cosa e poi c'è la sintesi personale poi come le vediamo le due cose nel tuo caso Emanuele la creatività può essere fatta più da solo oppure può venire fuori anche da un gruppo da un film nel mio caso è un lavoro per lo più solitario ma lavorando io con il mondo della ristorazione dell'accoglienza dell'ospitalità del turismo enogastronomico non fosse altro che i committenti i referenti sono sempre in rapporto dialettico con me non decido io le cose da solo cerco sempre un'interfaccia cerco sempre una risposta il discorso della creatività come dicevo prima non è altro che mettere assieme ripeto per quanto mi riguarda non è un metodo è una libera associazione di idee di suggestioni mettere assieme tutte le proprie passioni che nel mio caso sono la letteratura il cinema il teatro anche per poi finire ad un unico discorso personale che si risolve nel mio caso lavorativo nel vino che è la sintesi meravigliosa di tutto anche di tante amicizie come in questo caso dai fammi capire un po' di più questa cosa del vino che è la sintesi di tutto io sono figlia di un produttore di vino ti posso seguire beata te il vino è il frutto del lavoro delle persone questo lo si dice anche in contesti religiosi il vino è un rapporto speciale privilegiato con la terra con un'appartenenza il vino il vino è un simbolo importantissimo attorno a una bottiglia di vino si nascono amicizie rapporti d'amore si indugia in un bicchiere in più a volte anche per ricordare qualcosa certo per ricordare una persona che è lontana per accelerare la coscienza qua vorrei appunto citare anche un altro guru che è il numero due dopo De Bono della creatività che è Jaoui e lui dice che appunto ci sono due fasi nel processo creativo una divergente in cui si lanciano un sacco di idee e una convergente in cui si cerca di tradurle in qualcosa di concreto nella fase divergente ovviamente il vino può essere il punto di ispirazione sicuramente io sono sicuro che lui non è d'accordo con questo altro guru no no sono molto d'accordo abbasso i guru io devo fare discussione abbiamo condiviso abbastanza serate in compagnia del vino ma anche è sempre importante perché basta pensare che una volta a tradizione quando si preparava la tavola la prima cosa che veniva messo era l'acqua il vino e il pane e oltre anche figurativamente è sempre stato il centro della tavola e di condivisione e di unione questa è una bella cosa su e da che sentiamo anche il punto di vista di Alessandro io ho un punto di vista esattamente opposto a sua realtà perché lui dice non puoi stare lui ha bisogno del vuoto siamo nella fase divergente non ti vogliamo rinchiudere ha bisogno della pace della tranquillità del vuoto per poter far uscire diciamo la propria creatività io sono esattamente l'opposto io devo essere in condizione di fortissimo stress stress stimoli essere schiacciati in un angolo e quindi in quel momento il mio cervello magari un po' pigro comincia a prendere l'accelerata e tira fuori delle idee delle soluzioni per lo più parliamo di soluzioni per il lavoro in cui io per il lavoro che svolgo normalmente quindi è proprio quando sono sotto stress che riesco a esprimere al meglio la mia creatività delle tue idee non è bello perché comunque vuol dire essere sempre a 150 km all'ora però d'altro canto tendenzialmente forse è il rovescio della medaglia cioè nel momento in cui invece sono in una condizione di riposo di pace mi devo riposare perché ho corso troppo e quindi devo frenare e non devo pensare assolutamente a niente poi ricomincia il lavoro e quindi vedi che è un mix comunque di quello che ci diceva anche Gabbiele per cui c'è un momento di riposo di ozio che poi ci aiuta a generare idee qui siamo arrivati alla nostra terza ricetta della felicità e intanto vi lancio una provocazione si dice spesso che per essere veramente creativi bisogna essere dannati infettici invece il punto di vista di Giulia Cameron appunto l'autrice della via dell'artista e il mio personale punto di vista è quello che per essere creativi bisogna essere rilassati ma soprattutto anche star bene essere nella gioia perché il Dio della creatività è anche Dio della gioia voi cosa ne pensate? si può essere creativi solo quando si è disperato o si può essere creativi anche in momenti in cui si è felice? solo quando si è disperato è la tua strada ma ricordati che qua siamo alla ricetta della felicità secondo me non è una condizione permanente è una ricostina ricerca senza mai raggiungerla puoi avvicinarti ma non ci arrivi mai il problema è che devi trovare l'equilibrio in te stesso e noi non dedichiamo mai tempo a noi stessi perché la mattina siamo già proiettati al giorno dopo ora dopo quindi il problema non pensiamo al momento contingente adesso dico che bello siamo proprio degli amici mangiamo una buona roba e già magari pensiamo che la facciamo dopo e magari che dobbiamo andare in discoteca per rispondere ad Alessandro possiamo dire che la felicità può essere allenata questo è allena la felicità edizione frango angeli è il mio libro c'è anche un audiolibro se vuoi spendermelo come seguivi così come la creatività nel senso che il nostro cervello ha un sacco di possibilità di essere plasmato l'importante è dedicarci una pratica intenzionale quindi adesso ci diamo qualche consiglio e diamo anche qualche consiglio ai nostri telespettatori per allenare la nostra creatività raccogliendo alcune vostre idee alcuni vostri suggerimenti e poi magari io ci aggiungo i miei e in cosa consiste allenare la creatività? come possiamo allenare la creatività? ma secondo me in cucina è quella della conoscenza conoscenza che parla dal proposto di conoscere la materia prima perché conoscendo la materia prima si sa lavorarla si sa trasformando conoscenza vuol dire anche con le modalità di lavorarle le tecniche di lavorazione perché poi alla fine il piatto mi piace paragonarlo un po' come un'opera d'arte che è un quadro sono mille colori però bisogna saperli dosare e avere la tecnica non servono mille colori perché come sappiamo per fare i mille colori bastano i quattro primari per fare tutti i colori in questo mondo però bisogna conoscere e conoscere come lavorare perfettamente dai mi interessa avere appunto un input da parte vostra come è possibile allenare la creatività fare secondo me un viaggio a Napoli sarebbe la cosa migliore viaggiare sicuramente ci apre nuove prospettive inventare la vita ogni giorno cosa vuol dire al di là del proclama vuol dire fare dei gesti anche contro la routine a me piace ho conosciuto anche molte città con questo metodo piace percorrere delle strade dei piccoli per raggiungere un tragitto magari molto più lunghi magari molto più scomodi in questo percorso si scoprono nuove cose quindi lapidariamente la creatività la si colpiva facendo cose diverse dall'ordinario percorsi non convenzionali ma tu le fai diverse in ogni caso se tratti con la gente ogni giorno ti inventi al di là della strada cioè che noi con un cavallo non è che il cavallo è uguale c'è un metro ogni giorno c'è già un modo per stimolare la creatività cioè non è che l'approccio che a me piace molto è proprio quello di considerare i problemi che iniziano ogni giorno come in realtà uno stimolo per allenarci a trovare soluzioni nuove interessanti e appassionanti quello che vedo ogni giorno lavorando come coach con le persone è quanto sia possibile trasformare i problemi quelli che ci preoccupano di più della nostra vita in nostre risorse risorse positive e agganciandomi a quello che ha detto Emanuele effettivamente ognuno di noi è creatore della propria vita questo ognuno di noi effettivamente è una fonte e ha una fonte inesauribile di creatività non sono d'accordo sulla creatività vuol dire qualcosa dell'ingegno però creatività come dicevo prima è qualcosa di data dall'esperienza conoscenza dal sperimentare ma la creatività anche l'ultima cosa è quella di vedere appunto la realtà in modo differente perché molte volte come l'ometseria o quelle stesse cose non è un inventario non si inventa più niente è un proporre un mondo differente è la creatività quella mettere insieme cose in modo diverso vedere non più dalla propria finestrina o quella classica la realtà ma spostarsi e presentare molto differente e c'è una poidessa che risume molto bene quello che hai detto tu emanuele che dice lentamente muore chi è schermo dell'abitudine chi non sperimenta chi non si mette vestiti nuovi chi non osa colori nuovi chi non prova ricette nuove e allora salute e vina tanto non ci piace salute e uniamo due cheers 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 ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.